Vaffanculo, va! Prego! Ciao ragazzi, siamo di nuovo qua su FireTales 2014, simulazione di Vigile Fuoco. Allora, andiamo a caricare la partita che abbiamo salvato. Ci vuole ore e ore per... Buongiorno a tutti. Abbiamo un momento importante inizio. Solo avrò i punti più importanti. Sto assicurandovi come driver di Fire Engine Florian 2 oggi. Assicurando che il veicolo sia tankato e pronto per operazione a tutti i tempi. Sto assicurando, il veicolo sembra che sia in buona condizione. Ho spero che la stessa applica alla sua funzionalità. Allora, è tutto. Tutto, tutti tornare a lavorare e guardatevi. Ok. È assorto, sì. Via! Ecco, posso via. Come sta con... con la benzina questo veicolo? Eh. Mi stessa il battaglio. Vabbè. Che stai facendo a te? Eh! Oh... Vabbè. Buongiorno. È tutto ok? Buongiorno. È tutto ok? Ciao. Soltiamo un po' la... Buongiorno. È tutto ok? Buongiorno. Buon torno, buon torno. Scusi devo andare! Scusi. Hai fatto il culo! Non puoi sapere, no. Stardo, non vengono. Mi ha rubato la mia bevanda, la mia bibita, acqua sarà penso, acqua sì, però vabbè, prendiamo, prendi, ok, facciamo finto che l'ha preso, no? Buon giorno, qua c'è l'ambulanza, qua c'è la nostra, Posso salire, grazie, se io sono proprio qua, posso, 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 grazie, no, facciamo fai, Buon giorno, sempre sto buon giorno, buon giorno, spazzolone c'è, questo qua c'è, ok, chiave inglese c'è, la lascia c'è, c'è tutto, ok, bomba d'ossigeno c'è, possiamo chiudere, ecco, No, eh, grazie, vediamo qua dietro se è tutto a posto, allora qua è tutto a posto, ok, Che vuoi, passo, passo, bah, vabbè, allora vediamo qua, l'estintore è stato già a posto, ok, cioè l'estintore, cioè il birillo, il sabbio, ok, vabbè, chiudiamo, Pim, 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 dai, dai, chiudiamo qua, vabbè, pim, 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 questa qua qua, good morning, posso usare il spazzolone, no, voglio spassare un po' per terra, si può spassare? No, no, si può spassare per terra, boh, vabbè, mi metto a saluto qua, non posso neanche, che c'è qua dentro, non c'è nessuno, No, 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 come era, F8, no, F7, ok, allora ho bisogno di andare qua, Robi! in city Eeeeh, oh, wow, 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 calmo, E, spostaediti con quella sta cazzo della macchina, Ok, frena! Flash! Ok, grazie! Andiamo! No, perché? Non voglio nessuna freccia. No, sì, spegniamo. Allora, sposti nelle luci, tanto. Adesso, come va a valerci il tempo? Dove sta roba? Oh, croc! Florian 2, al ruolo controllo. Il veicolo ha arrivato a l'operazione di location. Eh, l'ascensore che ho preso del genere è pieno a terra. Qua? No. Cori, strunzo. Qua? No. Qua? Scusi, ma dove? Qua? 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 E' che lo fa? Dai, 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 dai! Allora, prendiamo, prendiamo, prendiamo l'ascia. L'accetta, la getta e bloccherà. Andiamo, 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 andiamo! Allora, andiamo, 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 andiamo! Un cazzo! come cavolo ha preso non va bene la città andiamo con questo scusate se valdrà a capare ragazzi ah ah dai questo non cazzo qua scusate ma che cazzo devo fare ancora qua per su un po' scritto al primo piano oh che paglia vedo anche la chiave inglese se già poi le metti l'equipendenza principale prima rimetti l'oggetto non è stato tutto eh che coglione non è stato tutto che cosa non è stato tutto che cosa devo stare bene questo non credo però no quello più piccolo sicuro ormai ho finito è eh 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 ma porca puttana voi grazie eh se neanche sto qua non so che cazzo non non è da aiuta no non cosa no no grazie Andiamo di nuovo al... E fermate dietro, grazie. Devo fare anche benzina, già che... Siamo a metà solo sul bottoglio. No! Oh, oh, oh! Eh! Allora... Scusi, ma ecco la... Apriamo la pompa. Aspettiamo che faccia il piano. Glugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug E andiamo. E andiamo verso la stazione. Aiuto. Oh wow wow wow. Falci a ribalettarsi con sta roba qua. Non è tanto stati. Non facciamo scemi se no ci ribaltiamo su serio. Dai 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 su su andiamo. Mi piace così. Operazione per Florian 2. Abbiamo appena ricevuto un'alertura dall'industrialale. Un accidente di traffico ha portato qui. Un foglio ha scoperto e l'olio ha scoperto. So let's get yourself there immediatly. Extinguish the fire. And absorb the oil with a binding agent. Cosa. Right. just a few words on today's shift allocation. I'm assigning you as the driver a fi- Scoperto. 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 Scoperto.